Di fronte a queste cose, secondo me ci vuole poco pietismo, ma molto concretezza, anche come stato d'animo, come interiorità. Tutti questi gesti devono esprimere un senso di accoglienza, di vicinanza a queste persone. Sono 48 e senza tetto registrati da dicembre ad oggi che hanno fatto richiesta di passare la notte nel dormitorio aperto dal comune di Arezzo nel palazzo di San Domenico e gestito dalla Caritas di Iocesana. 944 i pernottamenti di cui hanno usufruito queste persone per la maggioranza italiani ed aretini. Alcuni proprio residenti aretini, altri italiani che a volte passano così, perché tanta gente al giro, forse non ci rendiamo conto di questa situazione anche, che fa parte della povertà, della miseria nostra. I posti nel dormitorio sono soltanto 24, ma è un servizio che diventa fondamentale in questo periodo dell'anno. Dalla Siberia sta infatti arrivando un nucleo di aria molto fredda che intorno al 25 di febbraio raggiungerà anche l'Italia. In Toscana sono attese temperature ben al di sotto dello zero, soprattutto durante la notte. Ci sono delle persone che fanno servizio notturno, a turni, ecco. E anche questo va valorizzato molto, ecco, quindi c'è in questo senso da parte nostra una risposta di tante persone che hanno un cuore aperto. Ecco.